Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Darksiders 2 Allora, nello scorso episodio abbiamo raccolto l'anima che era esattamente qua Adesso dobbiamo andare a cercare le altre, immagino Non capisco che è sto casino Dove dobbiamo andare, Corvo? Non dentro la montagna Non gliela salire lì? No Si scenderà, forse Ormai qui credo che ho fatto Scendiamo Non scende No, cazzo Minchia, voglio forziere Non so neanche come ci sono arrivati Dentro di merda C'è un altro Come ho detto già nelle altre video Una nuova CPU Infatti Spero che si veda un po' più veloce Vedendo da YouTube Fa più lento di quello che vedo io Che cazzo è sto? Ah, ma è quello stronzo che dondola Ci sono gli stronzi che dondola Bisogna andare Bisogna cercare l'altra Questa porta Non lo so Che dice? Capito? Se mi affida il corpo Possiamo morire giovani Allora Vediamo Ah, qui dove eravamo prima Noi dobbiamo andare Spero che lo vediamo piano Noi siamo qui Missione principale Qui non dice niente E qui non dice niente Perfetto Andiamo a random Basta No, com'è che si fa? Space bar Tomba del giudice Ah, devo tornare proprio indietro La madonna C'è un viaggio rapido No Devo tornare indietro e indietro Allora C'era un modo Corri Eh Che roba Che roba Solo Si esce di là Maggi Non è che c'è tanta scelta E' da qui l'ascensor No Questo qualcosa di evocazione Forse di qua Noi evochiamo Magari può servire Che bello strano fanno Sti Sti valenti Chia Sa gente Ah, l'altro giorno ho scoperto Un nuovo attacco Che nemmeno io so come l'ho fatto Questo è bello Questo è così Ah, questo è un vara Come mi gira Che figo Il problema di questi giochi È che farli col mouse è un po' Cioè, mouse e tastiera è un po' casino Sono più giochi da joystick Qua è chiuso Ah, lui Noi Sì, dai Forse Allora, io sono convinto Che questo Noi gli diamo le anime E questo diventa più forte E poi ci dobbiamo combattere Spero di sbagliarmi Trova la seconda anima Probabilmente bisogna cercare le anime E poi tornare indietro Al testo Poi Sarò lo stesso pirla Che utilizzo io Chi lo sa Minchia, qui ci bisogna Di una chiave Quante scatole Subito, subito Che sono cani Allora Non posso boccar nessuno Perfetto Non lo so Potrei fare il coso che gira Fincivamente Questo qua È figo raccolto Fugila Nico Sono morto Non ho visto la mia vita Buono Si può dire A proposito Vediamo se si è sistemata La barra della vita Che neanche l'ho guardata No Chi sa perché c'è qualcosa lì Della pozione Che adesso è nascosta Sì dai Ho capito Non li può saltare Quanto fanno male Sta gente Che studio La barra della vita Ha Ho capito Sì dai No, qui dentro io non vedo una mazza Morite tutti Ma vi morite tutti Mi sa che ho caricato al massimo Al coso Dalla trasformazione Chiavano mai massimo sta gente Cavacca E si, cioè Ovviamente, minchia Tormento Anche se hai messo un po' merda eh ragazzo Non posso utilizzarlo Quindi Via, via Beh, non sembra Cioè, ogni volta che dico beh non sembra Poi succede qualche cosa che spacca tutto Oh Tutto qui sto mostro? Mi ha un po' deluso Vorrei vedere gli stivali No, sì no Sì, giusto, qua Facciamo gli... Ah, non posso Azzo 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 Niente Non so cosa sta roba quindi Allora Qui c'ho le scarpe Buttiamo 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 Questi qua che sono con le basi Lascio Vediamo che ho preso Danni critici arcani Oh Perché qui è un casino Sono un casino I GDS Sperno Dov'è? Che vecchio è sta roba Ora si guarderà Non so ci fosse già la chiave ma Senn Ma io sono curioso di sapere dove sei dove in questo labirinto Guarda Una pozione Naturalmente Perché Quelle le pozioni Vuoi Non cazziamo Un cazzo Sembra la stanza di prima E adesso che sento il menù di questo menù sembra quello di Resident Evil Non so perché Mi da questa impressione Vai biondo Cazzo Che è sta roba? Io penso Ma apri Ah beh no effettivamente Come fa ad aprire il cancello Oh mio dio Oh mio dio Buttarsi non conviene Mi devo rinvolsare Ma che storia Che puttana Per poco Guarda Mi stavo andando giù Trovo così roba random Ah Ovvio È fastidioso il rumore degli stivali Madonna mia Come fa sta roba? Apri le robe a random Si può dire Andiamo avanti C'è un altro forziere Ma dove cazzola è? Ci sono forziere ovunque Poi l'ho già aperto quello Che io come è? Beh Andiamo avanti La madonna Eh sta gente Oh cazzo Ho sbagliato attacco Ma Dictive Volevo fare questo In realtà Tutta una combinazione Di pulsanti Io capisco Mi chiamano massacrare Porca troia Devo trovare un'armatura Un po' più forte Oh ma massacratano Che cazzo Prendiamo la chiave Ok Direi che Posso riprendere la nuova Se questo video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto Commentate